Siamo a un attimo dalla conferenza stampa, per cui adesso rientriamo, così con la massima semplicità, sono a disposizione di tutti. Poi parliamo, sia prima che dopo, non c'è nessun problema. Prima e adesso. Anche di qua. Ti vedo la benedizione però, eh. Ti saluto a Michetti. Dietro, oh, che cazzo, vedrai. Un saluto per favore. Anche qua, grazie. Sì, grazie. Anche di qua Michetti. Ecco. Avvocato, qui sotto, qui sotto. Questa è un attimo. Forza me. Avvocato, qui in basso. Da questa parte, saluto. Avvocato, qui in basso, Torio, un attimo. Un saluto qua in basso, Torio. Resta giù, resta giù. Grazie a tutti, buon lavoro!